Musica Appassionati d'opera, rieccoci di nuovo in studio con una persona che non vorrei confondeste col direttore artistico del teatro Carlo Felice. Questo è il direttore dell'opera La Bohème che va in scena dal 17 al teatro Carlo Felice. In realtà no, qui abbiamo due al prezzo di uno perché è anche il direttore artistico curiosamente, ma in questo caso sei qua come direttore. E per giunto è anche un amico, quindi fare un'intervista è sempre abbastanza. Beh da dove cominciamo? Cominciamo tanto dalla musica. Bohème forse è il successo dopo Manon, non poteva sbagliare Puccini la seconda opera, si è chiamato Illica Giacosa, Ricordi ci ha messo del suo. È venuto fuori una specie di capolavoro, vogliamo dirlo? Sì. Dobbiamo dirlo, lo disse anche Ricordi, dice non vorrei essere, usare un termine così altisonante, ma secondo me questa opera è un capolavoro. E lo è, lo è un capolavoro da tutti i punti di vista, è una combinazione tra testo e musica straordinaria. È un'opera che nonostante qualcuno, la serie della prima abbia recensito, che non avrebbe fatto giro, è una delle opere più rappresentate al mondo e il motivo ci sarà. Sì sì, ma anche su Butterfly sbagliarono, cioè alla prima diciamo la verità non sempre le cose... Anche se Butterfly fu rimaneggiata... Butterfly è stata rimaneggiata ben bene. Qualche critica era anche giustificata. Sì, forse sì, in questo caso, ebbene, ma Toscati scrissero l'opera vile, perché c'era una signora che ammazzava col coltello da cucina in scena, insomma era... Ma qui tornando a Bohème, non solo l'opera è diventata famosa per quel che è, è anche un'enorme collezione di hit single, direbbero gli americani. No, c'è raramente in un'opera, hai che Geri da manina, mi chiamano Mimì, Musetta, il Finale, Zimarra... Zimarra... C'è tutto, veramente di temi conosciuti. Sì, sì, e anche tutto il primo atto, e anche il secondo, insomma serve a Puccini, perché è politematico, ci sono tantissimi temi, nonostante le aree, che verranno poi riutilizzate nel quarto atto, proprio sembra che Puccini si prepari il materiale... Sì, sì, tutta l'intenzione proprio del quarto quadro sono tutti quelli del primo, infatti uno prepara i fazzoletti lì perché capisce che starà per finire male... Sì, sono tutte citazioni di un déjà vu che però sempre in chiave in salsa triste, cioè quello che era, non so, nel primo atto un andante diventa un andante mesto, l'allegro è però allegro sostenuto, insomma è sempre, in qualche modo il quarto atto, insomma, li ripresenta, ma con un, con un, così, con un mood, come si poteva dire, insomma... Precisamente sul malinconico, sicuramente, fra l'altro Puccini poi era un maestro ovviamente in queste cose, ricordo una citazione bellissima, quasi subliminale, invece quando alla barriera d'Anfer, che stanno preparando quasi il trasloco, e nel momento in cui Mimì cita che il suo messale è nel casetto, compare un accenno a, non vado sempre a messa ma prego al sesto, cioè ci sono quelle quattro note che sono formidabili, no? Perché servono... Uno dice, ma questo, come mai sento questa cosa qua? In realtà l'ha sentita già un'ora prima, cioè quelle note lì sono messe, o gli spruzzi d'acqua in faccia fatti con l'arpa, cioè ci sono veramente delle cose... L'uscita di Chonard nel quarto atto, che è il tema dell'entrata di Chonard, assolutamente, con un altro spirito, un altro ritmo, e invece è affidato all'orchestra in maniera molto più triste, sta andando via, lasciando per pietà, come dice Colline, insomma un atto di pietà i due la soli, insomma... Ma l'altro, il fatto che ci sia un regista di cinema, e che regista di cinema perché abbiamo Ettore Scola, è abbastanza sintomatico del fatto che questo effettivamente era cinema prima del cinema, no? Voglio dire, c'è molto, tutti questi ammiccamenti servono spesso a Puccini per simulare dei primi piani o dei campi lunghi soltanto con delle note, è una partitura densa di... Il secondo atto poi è esattamente questo, cioè una zoomata nel caos del quartiere latino, nella vigilia di Natale, insomma a un certo punto si ferma la telecamera sulla situazione, sulla vicenda dei bohemian, in tutto questo contesto di grande gioia, confusione, festa, che è la vigilia di Natale appunto al quartiere latino, bellissimo. Stavo pensando Giuseppe, un lato della medaglia nel senso di fare un'opera così bella e così famosa, il rovescio della medaglia è che è così bella e così famosa, nel senso che poi chiunque la sente ha nelle orecchie, se non edizioni di riferimento, comunque la sua propria edizione, voglio dire, andarsi a scontrare con un'opera... Quando fai Enufa, se sbagli qualcosa, diciamo che non dico che a parte i puristi, non so quanti se ne possono accorgere, quando fai bohem deve andare tutto, cioè la senti questa responsabilità e la sentono anche i cantanti, il cast, che fra l'altro è un cast abbastanza stellare. Ecco appunto, infatti, quando anzi, ringrazio il direttore artistico di questo teatro per aver fidato un cast di questo genere, perché comunque sarà la bohème di questa edizione, poi alla fine, veramente, le opere le fanno gli interpreti, i riferimenti, se uno è affezionato ai propri dischi, insomma, peggio per lui, potrei dire, scusate, però insomma, no, è un cast che ha da dire la sua, sinceramente, insomma, penso che li abbiate anche intervistati, manca, sì, beh no, non so in che ordine poi andranno le interviste, insomma, ne avete visto anche l'entusiasmo, insomma, è un clima assolutamente... Il cast è femminile, pensare solo Cedolins, rancatore, insomma, Metropolita non farebbe di meglio in questo momento, direi. No, no, poi, insomma, la signora Cedolins, in questo ruolo, è stata veramente una cantante, è una cantante di riferimento, Desiderere Arrancatore, la vedremo per la prima volta, insomma, è un debutto sia nel ruolo che proprio nel repertorio pucciniano, però, insomma, sono quei cammei, lo dicevo stamani in conferenza stampa, come quelli che faceva la Scott al Metropolitan quando faceva Musetta, insomma, sono degli artisti prestati a dei ruoli dove, proprio per una questione di vocalità, li illuminano, insomma, questi... Sì, sì, è impensabile una musetta non al livello del cast, no? Nel senso che... Se è scarsa Musetta cade l'opera, come diamo la cosa, non è il personaggio secondario, non è spoletta. È anche un ruolo molto difficile perché, appunto, passa da impennate di grande esuberanza... Sì, sì, dalla frivolezza totale... Alla mestizia, poi del quarto atto, insomma, bisogna essere anche degli artisti, oltre che dei buoni cantanti. Sì, c'è recitazione, certo. Ottimo, siamo curiosi di vedere la prova del fuoco, che chi ci sta vedendo probabilmente ne ha già visto un pezzo perché andiamo nell'intervallo, noi stiamo registrando in realtà alla vigilia, ma prima di congelarti, ti chiediamo di sottoporti anche a te a questa... Dove firmerà il direttore, dove vuole? Qua, guarda, c'è un sacco di spazi. E la locandina è fatta. Allora, salutiamo Giuseppe Acquaviva. Grazie a tutti. Sì, dalla prossima volta sarei di nuovo il direttore artistico, ma no, lo sarei ancora, non è che l'hanno adesso speso a Divinis. No, no, non ho preso l'aspettativo. No, ecco, non ho preso l'aspettativo. Comunque, io devo essere molto grato a questo teatro, al sovrintendente prima di tutto, perché ovviamente la richiesta è venuta da lui, io l'ho presa come un contributo al teatro in tutti i sensi. Devo ringraziarlo, questo teatro, perché comunque ha messo a disposizione, ovviamente, le masse artistiche che da sempre, in tempi non sospetti, quindi non è piangeria la mia, definisco masse artistiche migliori sia in Italia che nel resto del mondo. I tecnici, cioè tutto il teatro veramente ha realizzato un allestimento che secondo me è uno dei migliori allestimenti, ora parte presenti. che non possono che abbassare la media, ma comunque è veramente un grande allestimento. Il maestro Ettore Scola è stato conoscerlo, è stato veramente un valore aggiunto a questo teatro. Noi abbiamo bisogno di avere sempre l'attenzione di questi grandi maestri, lui si è assolutamente dedicato a noi, noi lo ringraziamo, anzi anche da questa sede lo ringraziamo. Grazie mille, alla prossima. Grazie mille, alla prossima.